Buongiorno, sono Chiara Conserva, responsabile marketing e comunicazioni di Avustore, Vumi Networks. Siamo qua all'ISE, allo stand Spinetics, per presentare le novità appunto in casa Spinetics, il piccolo grande player multimediale. Le novità sono principalmente sulla base software, quindi il nuovo wizard guida online per configurare in meno di tre minuti il player e essere subito online pronti con le proprie trasmissioni digital signage. La seconda importantissima novità è il nuovo software elementi, che è la nuova versione della vecchia piattaforma HMD, software di gestione disponibile in tre versioni, che è stato semplificato e molto potenziato, che permette di creare i propri palinsesti e fare trasmissioni sugli schermi e gestire più player e sincronizzarli con un unico software, un'unica gestione. a tutta a finale. Grazie.